Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! No, non è necessario, mi ha bisogno di un cacere Un cacere, un cacere, un cacere Non ricordo se chiesto come si fa Non ho capito Quali overworld generator? Bratant, che? Recepter crafta mi bisogno Che? Che è? Quali overworld generazione? Che è? Che? 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 C'è il giorno, come si arriva un creeper? C'è il modo da perdere il glue stick? C'è il glue stick? Il glue stick? Il glue stick? Si! Il glue stick si è morto! C'è il glue stick? E 4 You sure we can just do this right? Yeah yeah we can just I'm enjoying this, I'm actually getting my second win now Don't tie yourself out now Oh I know Ok Alright now we've got enough energy ENERGY Already Fanta死んでた Fanta死んでた Eh?まさか今 J-j-あれな?これ Fantaな これ Fantaね 皆仲良くしてあげて これ Fantaね 元 Fantaね その時もあるから Sayonara Fanta L 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 la maggiore no was nein das ist ein was was niemals sieben 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 stück sieben sieben endaugen wir reden bro wir haben keine 5 wir haben keine 6 sieben 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 endaugen bro was ist das für ein krankes portal das sind 0,005 0,05 5 aus 7 boom ist ok ist ok 5 aus 8 nur ein einziges Auge noch dazu es wäre so krank es wäre also das wäre mein Rekord of all time ich hatte noch nie etwas ich hatte noch nie mehr als 5 ist trotzdem krass 5 aus 9 und wir haben noch 3 weitere 5 aus 9 5 aus 10 5 aus 9 nein das ist was 6 aus 9 10 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 16 16 17 23 23 15 15 16 17 16 17 19 20 20 21 21 21 22 21 per quanto riguarda questa settimana settimana lo so, sono solo i bambini qui sono solo i bambini qui hotel lobby, restaurant, table wherever we are, questi due sono scrappin' constantemente they're scrappin' in the hotel lobby non sono venuto per essere i bambini per essere i bambini di qualcuno pensi che eravamo a prendere la scuola I wanted to say, ragazzi, ragazzi, bisogna che qualcuno oltre a tutti, non fare le strumenti 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 ok questo è proprio in line questi devono essere un po' raro non ho mai stato non! no! no! what the fuck was that?! WHAT?! GOAT! WHY?! GOAT! WHAT THE FUCK DID YOU DO?! NO! BUT THE THEN no, no, no uccidio, lo amiamo e così tutto, facile non mi senti Sì, c'è un'altra giornata. Get out of my stream! Sì, c'è un'altra giornata. Jeez!